Eliminare i parcheggi è un lusso che non possiamo permetterci. Nuova dura presa di posizione dei commercianti comaschi sull'ipotesi di allargamento del centro storico cittadino programmato per fine giugno dall'amministrazione. Sabato le oltre 200 firme raccolte dal consigliere comunale Alessandro Rapinese tra i commercianti del centro, tra i tanti anche il presidente del sudalizio Gian Silvio Primavesi che ha siglato però a titolo personale. Nomi che si aggiungono ai 600 dei mesi scorsi e alle proteste dei negozianti di Piazza Roma, zona destinata alla pedonalizzazione, insieme con i porti Ciplinio e nell'area di Piazza Volta con le vie Garibaldi e Rubini. Oggi in un comunicato la Confcommercio di Como ribadisce contrarietà. L'idea di migliorare la città attraverso nuove zone pedonali è buona, spiegano, ma prima di tutto bisogna migliorare l'accesso alla sosta. Il problema infatti è che con la pedonalizzazione i posti oggi blu dovrebbero essere riconvertiti in stalli per residenti. I parcheggi a Como, dicono da Confcommercio soprattutto in prossimità del centro, sono enormemente insufficienti. Inoltre, aggiungono, gli autosilo non bastano a colmare i posti eliminati. Le auto sono in aumento, quindi, è la tesi dell'associazione dei commercianti, il teorema sarebbe facile, più macchine uguale più spazi. Secondo gli esercenti, infatti, con la nuova ZTL si perderebbero 300 posti, con danni per chi lavora, per i comaschi, per i turisti e per gli svizzeri che spesso vengono in città. Un passaggio del comunicato è poi indirettamente dedicato all'assessore all'urbanistica, Lorenzo Spallino, che nei giorni scorsi su Facebook aveva pubblicato il documento con cui, nel 1969, i commercianti del centro storico si lamentavano della pedonalizzazione. Non serve dire che l'atteggiamento dei commercianti di oggi è uguale a quello del 1969, dicono da Confcommercio, poiché, spiegano, i posti auto non servono soltanto alla categoria, ma a tutti. In queste ore poi è intervenuto il sindaco, Mario Lucini. Il provvedimento di allargamento è quasi pronto, spiega, e presto lo presenteremo. È un documento che tiene conto di tutti i problemi della sosta in città ed è stato scritto alla luce delle centinaia di incontri, circa 300, che insieme con l'assessore Daniela Gerosa abbiamo svolto in questi mesi con tutti gli interessati. Siamo pronti ancora ad accogliere suggerimenti, conclude il sindaco, poi presenteremo tutto quanto alla città. Ancora blindatissimi i contenuti del progetto, ma pare certo, almeno al momento, che non siano previste modifiche al percorso dei mezzi pubblici. Grazie a tutti.